Ciao a tutti, come state? Bentornati sul mio canale, grazie per essere ritornati di nuovo qui con me. Non so cosa state facendo in questo momento, ma mollate tutto, mollate davvero tutto, indossate un paio di cuffiette, rilassatevi con me, rilassiamoci insieme, chiacchieriamo un po', ascoltiamo un po'. Tutto quello che vedrete in questo video sarà soltanto per il vostro relax, cosa a cui io tengo tantissimo. Voglio che chiunque passi da qui si ricordi di me, del mio canale e con i miei modi di fare vi auguro di potervi rilassare completamente. Questa sera ho in mano una rivista che potremmo sfogliare insieme, già che alcuni di voi mi hanno detto che piace sentire il rumore della carta che viene sfogliata, dei libri o delle riviste che vengono sfogliate. Io tengo un Marie Claire di quest'estate che era accantonato praticamente in un caffetto e l'ho tirato fuori proprio a posto per voi. Non ricordo più neanche che articoli ci siano, so. Adesso lo sfoglieremo un po' insieme. Magari c'è qualche articolo interessante da poterlo leggere insieme. Andiamo un attimo. Allora ragazzi, nel frattempo voglio collegare un po' insieme. e voglio dire l'occasione di ringraziarvi tutti, tutti, tutti. Siete molto, molto, molto gentili con me. Avete sempre una buona parola, siete davvero in tanti a sostenermi nonostante il canale sia ancora piccolo. Come vi ho detto anche, una volta scorsa io praticamente non immaginavo di avere questo sostegno. Per me è davvero una gran cosa, una cosa importantissima perché quando si è alle prime armi, alle prime esperienze non ci si aspetta tanto. E per me, quel poco che ho, che mi state tanto, è davvero tanto perché il supporto fa tantissimo da parte di ciascuno di voi. Siete tutti, siete tutti davvero calorosissimi e avete davvero, siete davvero molto educati anche nel modo di esprimere i vostri commenti. Quindi questa cosa io la credisco tantissimo perché avete capito di che cosa tratta il canale. Ho visto che vi piace passare a vedere il mio canale e a vedere i miei video. Questa cosa non può far altro che farmi un immenso piacere. Diciamo che non me ne aspettavo per niente. Questo giornale è praticamente una rivista dove ci sono profumi, adesso ci sono pubblicità di profumi, di borsa. Giornale di moda. Mi stiamo sfogliando e spero che il rumore della carta sfogliata vi piaccia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora qui c'è un articolo che parla praticamente di Capri. Leggiamolo. Che bella Capri. Sweet con vista su faraglioni e trattamenti rigenerati a chilometro zero memorabili. Edilio roccia viva. A picco sul mare. A dolcita del profumo di Capri. di Capri. di Capri. mi porto dietro questo ricordo. quello di un'isola. di un'isola sinuosa. di un'isola sinuosa. di un'isola sinuosa. di un'isola. un'isola sinuosa sinuosa. su richiesta. su richiesta. che bellissima. io ci sono stata. e ho voglia di ritornarci di nuovo. il fatto è che è passato tanto tempo da quando sono stata l'ultima volta a Capri e sicuramente quando ritornerò la ritroverò diversa e mi piacerebbe praticamente ritornare. sono stata parecchio tempo fa a Capri e è stata davvero un'esperienza fantastica. ho mangiato dell'ottima pizza napoletana fatta davvero da dio e il panorama è stupendo. è un sogno, è tipo, cioè, è un posto, io lo definisco il posto delle favole Capri. ci voglio assolutamente ritornare. c'è anche che adesso è capitato quest'articolo che parlava di questa suite in quest'albergo a 5 stelle che si trova a Capri. mi sono ricordata giusto adesso. voi quale viaggio avete nel cuore? che cosa vi è rimasto impresso nella mente? un luogo incantato dove siete stati? una crociera che avete fatto? un posto dove siete sbarcati? qual è il posto che di più di tutti vi ha a vedere il cuore? e che vorreste sempre ritornarci? ce ne sono un po' di posti dove io vorrei ritornare. uno di questi è Barcellona in Italia luoghi bellissimi, Firenze ce ne sono parecchi Capri come vi dicevo prima ce ne sono un po' di luoghi belli nel mondo dove ci si va e quando si va via se vuole ritornare c'è un articolo che parla sulle donne le donne pensano di poterti cambiare non lasciano mai perdere anche questo è amore sentiamo un po' ho cambiato auto questa è la storia di una donna che scrive una lettera ad un giornalista scrittore si confida tra virgolette con lui scrivendo quello che pensa e lui le risponde quello che pensa sull'amore su come gli uomini noi donne tentiamo di farli cambiare adesso leggeremo insieme cosa dice ho cambiato auto è sabato e mi appresto alla prima gita con compagna e figlia è un classico mi sento come mio padre o mio nonno ci accomodiamo nel caratteristico profumo di nuovo metto in moto e getto il portoghiale sotto il bracciolo la compagna ha quindi un lui a scrivere una lettera allo scrittore praticamente la compagna l'afferra al volo per infilarlo in una cavità sotto il cruscotto che non avrei mai notato il suo posto obietto andava bene dov'era alza la voce manco l'avessi insultata qui potrebbero cadere obietto meno convinto sento montare un'attenzione che conosco però qui sono più vicini ci sono passato milioni di volte mi sembra che nella vita io non abbia fatto altro che tentare di restare immobile nelle mie certezze nei vizi come nelle virtù statico come un sasso mentre attorno a me le donne da mia madre in poi creavano un vortice costante cercando di smuovere quel sasso pettinarlo cambiarlo un pezzetto alla volta cose pratiche un portocchiali abbinamenti cromatici dei vestiti l'alimentazione disposizione dei mobili su fino alla filosofia di vita te ne stavi tranquillo una bandiera senza vento a chiederti per l'ennesima volta cosa avresti mangiato a pranzo più raramente cosa ci fosse prima del big bang ed ecco arrivare la donna che come il vento toccava tutto disturbava la guida dandoti però uno scopo a che serve una bandiera senza vento ma se era felice così John Ewing lo scrittore a proposito delle donne ha scritto cosa ne fanno di tutto quello che non amano di noi e che magari neppure li piace beh immaginano di poterlo cambiare pensano di poterti cambiare io direi le donne non lasciano mai perdere forse per noi non lasciamo mai perdere abbiamo sempre voglia di cambiare qualcosa tutto quello che attorno a noi non va bene non vogliamo cambiare cerco un momento per questo fervore correttivo mia madre si angoscia che io non cambio il portafoglio quando è logoro è indecente dice per sicurezza me ne regala due alla volta anche se il computer è carico io lo lascio attaccato alla presa arriva la mia compagna e stacca si rovina meno dice a causa loro ho perso fiducia nella medicina allopatica non so cosa sia io so l'omeopatica l'allopatica non so cosa sia è nell'obbligatorietà del burro per il risotto potrebbe essere una forma d'amore che non sopporta critiche perché sa di fare il bene altrui se lo contesti ho provato poi ho seguito il consiglio d'oro di mio padre tu intanto ti dissi poi vedi si alza il velo di tristezza di chi si vede smingere un regalo fosse per me il mio ambiente somiglierebbe a un'auto che ha fatto la parigidaca e non è stata lavata carattere negligenza di solito rispondo poi mi pento della cazzata che ho detto poi mi secco di essermi pentito non era una difesa della libertà a nessun maschio della famiglia mai venuto in mente di cambiarmi e se di colpa le donne tacessero e potessi restarmene lì come una bandiera floscia dubito che sarei più felice ti affeziona ciò che ti disturba la vita non è tutta rete parallele che non si toccano mai esistono gli incroci rivedo le tante mani femminili che tolgono un cappello dal cappotto dei mariti madri che insistono a fare la riga ai capelli dei figli sull'uscio di casa e segno di una più floreda economia affettiva si occupano della vita perfino di quell'altrui come se fosse una storia per dei lettori attenti e non vogliono che sprechino il loro tempo guardando un sasso in disordine quando la moglie non era più tanto presente a se stessa era mio nonno ad allacciarle il bottone del golf senza saltarli non sono solo le donne chi è più forte ha giusto il più debole però che fastidio anche se hanno ragione sapere che siano convinte di averla e vorrei tanto quel portocchiali vicino a me per controllare se cade e non smettere di pezzarci fino a che arriverò in campagna a fine del testo ragazzi spero che la lettura vi abbia rilassato che siate stati bene anche in questo video anche questa volta vi lascio due carezze per concludere questa serata e non so se vi trovo addormentati vi ringrazio tanto davvero tanto e ci rivediamo al prossimo video grazie per essere stati qui con me come sempre ci vediamo una prossima volta ciao ciao ciao